Bene, andiamo a vedere il processo di preriscaldamento dell'aria nello scambiatore di calore e il successivo passaggio nell'essiccatore a tamburo rotante. Il punto di partenza della nostra aria è 15 gradi quindi partiamo da 15 che sarebbe qui 15 gradi e andiamo a intercettare la linea dell'umidità relativa che all'inizio è del 70 per cento quindi piuttosto alta per fungere da essiccante quindi tra qui ci andiamo a collegare con la quarta linea dall'alto quindi questa e quella del 70 per cento ecco ci fermiamo esattamente qui all'incrocio e su questo punto da questo punto quindi andiamo a riscaldare l'aria fino a 70 gradi per diminuire la sua umidità relativa una linea esattamente orizzontale fino a 70 gradi fino a qui ok adesso possiamo vedere che questa linea intercetta una linea grigia un po più scura che una linea iso entalpica e sta a una temperatura di bulbo umido che è di poco superiore a questo punto qui quando segnale con un altro colore questo punto qui che corrisponde a una temperatura di bulbo umido di 28 quindi questa sarà una temperatura di bulbo umido di quella da 30 gradi sta qua quindi sarà 28, qualcosa ma questa non ci interessa la temperatura di bulbo umido ci interessa piuttosto la linea iso entalpica questa che è esattamente incrociata con la temperatura di 70 gradi eccola quindi da qui la linea iso entalpica parte e dobbiamo portarla perché l'aria sta entrando dentro l'essiccatore sta perdendo l'umidità sta acquistando umidità sta perdendo calore sensibile ma sta accumulando vapore e quindi la sua umidità sta salendo e deve arrivare fino all 80 per cento cioè fino a questo punto siamo arrivati all 80 per cento di umidità ma questo è il 70 per cento quindi dobbiamo andare avanti dobbiamo arrivare fino a qui lungo la linea entalpica che vediamo essere a esattamente 90 kilo joule al chilogrammo quindi arrivati qui siamo l'ottanta all'ottanta questo corrisponde a una temperatura di giusto un grado superiore a 30 quindi siamo una temperatura qua di 31 gradi e ha un'umidità relativa anzi un'umidità assoluta relativa 80 per cento l'umidità assoluta la leggiamo qua è esattamente 23 grammi di vapore a chilogrammo di aria secca e questo quindi è tutto quello che dobbiamo trovare da questo grafico